Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Viti Sapienzi e io sono Arianna e per chi non lo sapesse Viti Sapienzi è un'associazione culturale fatta in maggior parte di archeologi ma conta anche altri professionisti dei beni culturali. Veniamo subito al video di oggi che vi farà rivalutare tutte le certezze della vostra vita a partire da canzoncine e filastrocche infantili. La forma tonda in generale rappresenta una totalità e se vogliamo anche una rappresentazione uterina quindi un qualcosa che accomuna tutti gli esseri umani che ne fanno parte ma anche gli animali utili all'attività umana e quelli selvatici che hanno un'importanza simbolica e trasmette immediatamente un senso di appartenenza, d'uguaglianza della comunità che la pratica durante la ritualità. Tra le danze tonde più comuni senza andare a disturbare le specificità regionali che adoro e che sono meravigliose c'è il nostro girotondo. Ora vi espongo la mia personale teoria e ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensiate quindi scrivetemelo nei commenti e state a sentire. Ho sempre sostenuto che fiabbe e filastrocche non vengano insegnate ai bambini, dagli adulti per metterli in guardia su matrigne cattive, foreste oscure e pericolose, il lupo cattivo, barba blu, gli orchi, no? E mi direte ma che problema hai? Ma te chi te l'ha insegnate? Non te l'hanno letta la mamma e il papà? Certo ma la mamma e il papà sono sempre stati tali, cioè sono sempre stati genitori e sono sempre stati adulti? No ovviamente! Sono stati anche loro bambini quindi io penso e sostengo fermamente che in quanto ex bambini abbiano insegnato a nuove generazioni di bambini determinati contenuti, utilizzando sempre un linguaggio che semplicizza e metaforizza dei principi ben più complessi, anche complessi da assimilare, cioè come l'esistenza di violenza, l'esistenza della morte, l'esistenza di persone orribili che possono far del male. Per noi adulti è la norma, sono cose normali, ma per un bambino sono complessi da capire e effettivamente da collocare nella realtà a volte. Riguardo la storicità del girodondo gli antropologi si dividono in due possiamo dire scuole di pensiero, entrambe estremamente valide ed estremamente verosimili. Una vede la sua collocazione temporale come conseguenza al periodo della peste, quindi coevo o immediatamente successivo. È indifferente quale sia la peste di riferimento visto che ce ne sono state tante, tante ondate, tante epidemie. La seconda è che sia una reminescenza dei culti agrari europei. Io mi trovo d'accordo con entrambi, infatti la mia posizione diciamo può essere collocata nel mezzo. Il gesto proprio della danza in tondo, come per esempio su Ballotundu Sardo, che è uno dei più famosi, ma sicuramente ognuno conosce quello appartenente alla propria regione, è con una certa percentuale di sicurezza associabile a quello che dicevamo, cioè ai culti agrari europei. E ne abbiamo già parlato, potete andare a leggere i nostri approfondimenti sotto forma di articoli, quindi per iscritto, sul nostro sito www.vidisapientia.it. Per quanto riguarda il testo, invece, come immaginate, penso sia inevitabile che abbia subito delle modifiche nel tempo, anche perché è un testo non codificato. Si è via via adattato alle esigenze del tempo e dello spazio che ha attraversato. E infatti se vi è mai capitato di giocare con bambini di altre regioni, ma anche di altre città, e non vi dico di altri stati, sicuramente giocando al girotondo avete notato delle differenze proprio abissali. Però avrete notato che bene o male si somigliano, quindi il messaggio originario, quello portante, dovrebbe essere rimasto invariato. Pensate che il metodo di confronto che ho utilizzato per i testi del girotondo è lo stesso che si usa per i testi per l'esegesi biblica. Ogni testo viene disposto su colonne, una accanto all'altra, in modo che si vedano subito le differenze. Poi viene epurato delle aggiunte, diciamo, delle specificità, chiamiamole regionali in questo caso. E vengono eliminate anche le interpolazioni, quindi delle modifiche volontarie per trasmettere un messaggio diverso. Lo scopo è ottenere i punti saldi originali che stanno alla base di tutte le versioni. Il metodo è quello degli Hexapla ed è stato inventato nel III secolo da origine, mica pizza e fighi. La versione attualmente più comune in Italia, proprio quella basic basic, recita, giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Ovviamente siete obbligati a scrivermi nei commenti la versione della vostra città perché sono estremamente curiosa. Fino a qualche decennio fa però la versione più comune, almeno nel Lazio, era molto molto diversa. Infatti mio padre conosceva una versione del giro tondo diversa da quella che conosco io. E abitavamo nella stessa casa, eravamo della stessa città, ma di un tempo diverso. Ma questa variante rende maggiormente l'idea che dietro il giro tondo ci sia una realtà ben più complessa. E uno stralcio di questa variante di qualche decennio fa recita. Giro giro tondo, cavallo impera tondo, cavallo d'argento che costa 500. 150, la gallina canta, lasciala cantare, la voglio maritare. Le voglio dare il sole, il sole è troppo forte, meglio la morte. La morte è troppo scura, le voglio dare la luna. La luna sta lassù, dai un bacio a chi vuoi tu. Che senso c'ha? Come si può notare facilmente non ha alcun senso. Cavallo impera tondo è la prima locuzione non senza che troviamo, proprio la prima all'inizio. Ma in altre versioni il cavallo è nero e tondo. Quindi può essere una sorta di fraintendimento, tipo rimanendo in tema di giochi e filastrocche del gioco del telefono. Qualcuno ha capito male quando gli è stata trasmessa e quindi è diventato, è stato semplificato invece che in due parole, nero e tondo impera tondo. Magari con un significato che in passato era più immediato rispetto al nostro presente. E questo cavallo nero e tondo lo teniamo da parte per dopo. Della versione inglese comunemente conosciuta come Ring Around Rosy, Ringa Ringa Roses, In tempi più recenti slenghizzato Ringa Ringa Roses, il testo fu canonizzato esattamente nel 1881, quando venne dato per la prima volta alle stampe nella pubblicazione Mother Goose or the Old Nursery Rhymes, che in Italia se non sbaglio è stata pubblicata con il titolo I racconti di Mamma Oka, che è bellissimo. Il gioco del giro tondo ovviamente è molto più antico rispetto a questa versione canonizzata nel 1881, tanto che la componente musicale è stata rilevata e registrata in un archivio nel 1790, nella Round Folk Song Index, che raccoglie la tradizione orale anglosassone. E il testo completo recita, e scusate la pronuncia ignobile, Ringa Ringa Roses, a pocket full of poses. A tissue, a tissue, we all fall down. Mommy in the teapot, dead in the cap. Baby in the saucer, we all jump up. E dopo questa prima strofa ripete il ritornello e ascoltate che è molto molto importante e indicativo. Ringa Ringa Roses, a pocket full of poses. A tissue, a tissue, we all fall down. The cow are in the middle, eating buttercups. E tissue, a tissue. We all jump up. Vediamo qui comparire un'altra espressione molto particolare, una parola che non esiste in inglese, ma che non esiste in nessun'altra lingua. A tissue. Seguito da we all fall down. E questa versione l'ho messa a confronto con i girotondi in altre lingue. E ci sono delle similiarità a distanza di migliaia di chilometri da un paese all'altro. Quella in tedesco non la pronuncio neanche perché non so il tedesco, però diciamo che anche così a vista ci sono delle similitudini. Inizia con Ringel, Ringel, Reien. E viene sostituito a tissue con ash, ash, ash. La versione spagnola invece inizia proprio diversamente. Neanche questa la pronuncio, ma tanto vi lascio tutto quanto in grafica. Sicuramente me ne ricorderò. E in Spagna invece di a tissue si dice a chupe, a chupe. Prima di tutto evidenzierei una cosa proprio che salta all'occhio e che in questa versione spagnola vengono menzionate le patate. Quindi sicuramente parliamo di una datazione precisamente collocabile nel tempo, almeno non prima del XVI secolo. E questo ci fornisce un termine di tempo dove poter ambientare da quel momento in poi la filastrocca del girotondo. Ma parliamo di una specifica di questa versione, perché soltanto qui si menzionano le patate. Quindi questa versione può essere databile e può essere stato un cambiamento nel tempo di una versione ancora precedente. Lo vedete sempre qui, parla evidentemente di una carestia e di una differenza sociale alimentare tra noi e loro. I primi, noi, mangeranno insalate e patate. I secondi, loro, mangeranno gli agrumi. E gli agrumi non sono un alimento a caso. Già in passato si era a conoscenza della loro forza vitaminica e quindi erano grandi alleati degli esseri umani per il mantenimento della salute. Stiamo cominciando a dare un senso più specifico e profondo al girotondo, che ne dite? Mantenendo l'assetto su colonne di origine, anna memoria, notiamo che tutte le versioni, meno quella italiana, hanno mantenuto delle specifiche parole non-sense. Però sono tutte parole che male si amalgamano all'interno di una canzone per bambini e si raccordano male con il resto del testo. Ma andiamo oltre, attraversiamo proprio l'oceano. Infatti, a tissue, della versione inglese, in America diventa ashes, cioè ceneri. A tissue, a ciup, ash e ashes. Hanno senso nell'ottica di una malattia. Le associerei con molta più semplicità e anche intuito a delle onomatopee che rimandano allo starnuto o a colpi di tosse. Ma provate voi stessi a confrontarli, per esempio, con il nostro e-chew. Sostituiamolo nella versione inglese. Che cosa esce fuori? E-chew, e-chew, cioè a tissue, a tissue. Tutti cadiamo giù. We all fall down. Ora proviamo ad immaginare come gli occhi di un bambino percepiscano la malattia in un adulto, in un genitore, in un amichetto di giochi o anche in se stessi, immaginando anche che possa sopravvivere fino a poterlo raccontare. La descriverebbe partendo dal sintomo più evidente. Che sia un colpo di tosse, uno starnuto o un lamento lo percepirebbe come un qualcosa che si verifica, dopodiché si cade a terra. Cioè chi si è ammalato alla fine è caduto a terra senza rialzarsi più. Sintomo? Causa? Agli occhi di un bambino? Epilogo. Ashes potrebbe non essere un riferimento alle ceneri da cremazione umana, ma una rivisitazione di a tissue. Anche perché non sempre si cremava. Spesso, è successo anche recentemente, si è ricorso per lo smaltimento dei cadaveri contaminati all'utilizzo di fosse comuni. E ne abbiamo avuto esempi proprio veramente tanto tanto recenti. Quindi esserci stato un cambiamento a questo punto culturale tra la terra di origine, quindi l'Inghilterra, e la destinazione di arrivo, quindi quelli che poi sarebbero stati gli Stati Uniti. Il famoso cavallo imperatondo o cavallo nero e tondo, che dicevamo prima, nell'immaginario collettivo, diciamo, è il colore del cattivo per eccellenza. Anche nel Signore degli Anelli, per esempio, i Natskul cavalcano dei cavalli neri, poi dei draghi neri. È la cavalcatora del cattivo. Ma facciamo un passo indietro, perché il cavallo, l'associazione più immediata è quella ai cavalli dei cavalieri della vocalisse, che poi viene ridotto ad uno per semplificare e per entrare magari anche meglio nella metrica, non possiamo saperlo. E il cavallo nero, rispetto a cavalli di altri colori, vengono più facilmente associati all'idea di morte e di paura. Ma questo colloca la filastrocca oltre il Medioevo, perché nel Medioevo il colore del cattivo e del cavallo cattivo era rosso, non era nero. Il cavaliere vermiglio era il cattivo, l'antagonista per eccellenza, dei cavalieri puri di cuore del ciclo arturiano. Quindi, giro giro tondo, a cavallo intorno al mondo, potrebbe essere una versione zero, a cavallo intorno al mondo, quindi anche con un senso di propagazione della malattia, che si è andata poi a perdere nel tempo come senso, anche perché deve essere stato, per forza, modificato da bambini. Quindi nel tempo, pur mantenendo una parte del senso, diciamo a grandi linee, la fantasia galoppata alla grande, le modifiche anche rispetto a quello che avevano ascoltato e poi tramandata da altri bambini, ce ne sono a bizzeffe. Però come avete visto, mettendo su colonne i testi, è facile trovare dei punti in comune. Quindi risalire alla nozione originale che voleva essere trasmessa. Cioè, da quello che stiamo capendo, una memoria di ciò che probabilmente è successo e che ha colpito molto i bambini che hanno poi inventato questa filastrocca e l'hanno trasmessa ad altri, come fosse un messaggio, come fosse un'avvertenza del tipo, stai attento che se qualcuno sta male e comincia a starnutire, probabilmente poi cadrà giù. Anche perché in passato non è come adesso, che ti prendi i medicinali e guarisci. C'era un'altissima probabilità che un ammalato morisse. Quindi era anche un modo per dare senso al proprio mondo, al proprio piccolo mondo. Il cavaliere con il cavallo nero, dobbiamo precisarlo per dovere intellettuale, nei testi avocalittici, non è quello della morte, è quello della carestia, il cavallo verde è quello della morte. Ma la carestia non è che faccia meno paura della morte, anzi, spesso e volentieri vanno a colpire la popolazione contemporaneamente o uno di seguito all'altro. Fiori ed animali ricordano spesso anche nelle moderne canzoncine infantili, però noi insomma lo possiamo intendere come menzionare ciò che di bello c'è nel mondo, i fiori e gli animaletti. Ma dobbiamo doverosamente porre l'accento supposis della versione inglese, che significa nello specifico fiori recisi, o il mazzolino di fiori insomma, e la canzoncina continua con un inquietante riferimento alla famiglia. La mia mente d'archeologa non può fare a meno di associare la strofa che menziona parenti e stoviglie, mamma in the teapot, daddy in the cap and baby in the saucer, ad una forma di sepoltura, in urna, associando ancora una volta la filastrocca ad un'idea, diciamo, non proprio definitissima, ma appartenente al campo della morte. E legato nello specifico alla morte, sì, ma alla cremazione, quindi ashes della versione americana, in questo caso, insomma, richiamerebbe ad un certo senso che stiamo andate a trovare, all'uso di bruciare i corpi delle persone che avevano contratto una malattia particolarmente grave. Che trip, raga, pensate che questo sta tutta nella mia testa, è allucinante, lo ammetto. Però è quello che io ritengo sia verosimile avendo analizzato queste canzoncine. E dici, ma che te stai a perdere tempo a analizzare le canzoncine dei bambini? Sì, secondo me sono un tesoro inestimabile di significato. A parte una ricchezza culturale infinita, ma poi leggere libri per bambini possibilmente illustrati è una delle mie attività preferite. Perché attraverso le storie conosco la storia, dove è ambientata quella fiabba specifica e il messaggio che vuole trasmettere. Quello che dicevo che sono ex bambini che trasmettono messaggi ai bambini moderni che leggono il loro prodotto. Una guida per poter diventare adulti in pratica. Per poter sopravvivere fino all'età adulta. Durante il periodo della peste, ammesso e non concesso che sia questo il momento di riferimento nel quale collocare il giro tondo, le sepolture difficilmente erano individuali. Anche perché c'era una grande quantità di morti da smaltire. C'è poco da fare. È un brutto termine, ma è così. Nei paesi invece non è detto che si morisse tutti insieme. Soprattutto nei piccoli paesi. quindi magari ci poteva essere una maggiore attenzione alla sepoltura e dedicare a qualcuno una sepoltura individuale. Ma ricordiamoci che come norma generale i corpi dei cristiani non possono essere bruciati ma inumati perché credono nella resurrezione dei corpi. Quindi che dobbiamo fare? Volgere lo sguardo ancora più indietro nel tempo? Tipo al neolitico? Come abbiamo visto nell'articolo sui fanes che vi invito andare a leggere sul nostro sito www.vidisapientia.it una certa memoria ma proprio labile delle tradizioni può essere mantenuta nel tempo attraverso il racconto e la fiabba per questo le ritengo così importanti. Per esempio questa fiabba di fanes delle marmotte del regno di fanes è sopravvissuta dall'età del bronzo fino ai giorni nostri ancora viene raccontata. La sepoltura in urna non è inusuale nel Regno Unito anzi nel Neolitico Finale che è 2200-2000 avanti Cristo è anche insomma abbastanza diffusa e prima che l'archeologia diventasse la scienza che conosciamo anche in passato non era difficile imbattersi in urne cioè non sto dicendo che debba essere un racconto che viene da un passato così remoto potrebbe essere piuttosto il resoconto di un ritrovamento archeologico accidentale e i tombaroli in passato esattamente come adesso agiscono spesso e volentieri indisturbati depredano le tombe portano via tutto quello che c'è di prezioso e di bello quindi non badano a quanto sia rilevante e questa è una cosa che mi fa ridare tantissimo rilevante per gli studi e lasciano tutto così come fossero animali proprio animali selvatici alla merce di tutti c'è chiunque passa può trovare cose può trovare cose che non hanno ritenuto preziose vendibili quindi magari un'urna neanche particolarmente bella con dentro le ceneri e in passato poteva succedere esattamente la stessa cosa e quindi far vivere questa esperienza magari ad un bambino immaginate un gruppo di bambini che giocano oppure un pastore un giovane che va a portare gli animali al pascolo e si imbattono in una realtà archeologica di questo tipo e che fanno la prima cosa apprendono quello che hanno visto e lo portano da un'autorità per farlo visionare per farlo controllare farsi dire cosa sia perché a questo punto subentra anche la curiosità l'autorità del villaggio di solito è il parroco il capovillaggio che magari ad un'analisi più grossolana definisce che si tratti di resti umani e quindi a questo punto può nascere anche una storia da questo ritrovamento come è successo spessissimo nel nostro passato e a questo punto Ashes ha significato a questo punto Posis ha significato perché i fiori decisi portare i fiori sulle tombe dei defunti è un uso che esiste fin dall'epoca dell'uomo di Neandertal e magari dopo la spiegazione dell'erudito della cittadina del villaggio del paese i bambini possono essere molto impressionati dal fatto che una famiglia sia stata sepolta in decontinitori che possono ricordare una tegliera una coppa un vasetto qualcosa che a loro sia più familiare di un'urna funeraria e inseriscono questa importantissima scoperta per loro nei loro giochi nelle loro filastrocche e non la dimenticheranno mai la racconteranno ad altri bambini che la racconteranno ad altri bambini ancora e la stessa identica esperienza ripetuta anche nel tempo quindi rafforzata diventerà praticamente immortale piuttosto che effettivamente sia rimasta una memoria di un passato estremamente remoto questo è un po' inverosimile purtroppo mi piacerebbe molto come nel caso di Fanes ma lo ritengo inverosimile la versione italiana sembra completamente tronca di quelle parole o nomato bei che abbiamo menzionato finora ma è veramente così? e se le parole fossero soltanto state trasmesse in un modo sbagliato in un modo confuso tra una lingua e l'altra o fossero state trasmesse nel tempo in modo non esatto ciò che mi ha indirizzato in questa strada è la vicinanza nella filastrocca tra 50 e 150 il cui suono è effettivamente molto simile a quello dello starnuto che noi rendiamo con l'onomatopea ec o ecciu ognuno lo dice un po' come vuole per esempio c'è un mio zio che lo urla in un modo molto simile di attiscio dice ad show non sono una linguista quindi non è il mio campo lo premetto e diciamo che la mia può essere un'ipotesi anche un po' ingenua però la vicinanza tra 5 ed ecci mi sembra molto evidente tanto che nel Lazio magari i più anziani spesso li sento ancora starnutire con e 5 in conclusione posso dire che il girotondo non è necessariamente una filastrocca nata per la peste del XVII secolo come è stato anche ipotizzato da altri ma si può riferire a mio parere anche ad altri eventi epidemici e che tutti questi molto impressionanti e che si sono susseguiti nel tempo abbiano contribuito a modellarla e a farla arrivare fino a noi in questa forma un po' strana nella tanza che accompagna i testi che abbiamo analizzato fino adesso e mi riferisco in particolare alla versione inglese compare anche il tema del salto jump ve lo ricordate nel primo ritornello dice we all jump up tutti saltiamo su e il salto antropologicamente è di buon auspicio perché rappresenta la potenza germinativa della semente nello specifico potremmo azzardare il germoglio di frumento che esce dalla terra e se il frumento germoglia la carestia è finita quindi c'è la fine di un periodo particolarmente duro c'è la gioia c'è la voglia di tornare a ballare intorno al palo è come si chiama il palo rosi che è carico di nastri colorati e che avvicina molto all'idea di fertilità e quindi acuti agrari il cadavere a terra invece potrebbe non rappresentare la morte vera e propria ma essere tipico di una fase di queste danze statiche per quanto mi riguarda la questione è ancora aperta e non la chiuderemo né oggi né mai io mi sono divertita tantissimo a ricercare gli argomenti per il video è stato veramente un viaggio straordinario e questo sicuramente rientra nella top 5 dei miei video preferiti se vi è piaciuto mettete like ovviamente seguite il canale così ne vedrete anche altri qui sul canale abbiamo anche altre fiabbe abbiamo Pinocchio e la sirenetta vi metto il link nel box informazioni in descrizione e sicuramente arriveranno anche altri video sulla vera storia delle fiabbe che è un tema che come vi ho detto mi interessa tantissimo quindi sicuramente li farò ovviamente tutto filtrato dall'occhio di Vidi Savienzi quindi un occhio attento alla storia all'archeologia all'arte quindi un po' diverso magari rispetto al racconto che fanno altri canali a maggior ragione mi invito a seguirci e noi ci rivediamo sempre qui lunedì alle 15 con un nuovo video ciao ciao